Ciao ragazze, allora questo è un altro video annuncio, lo so mi rendo conto che sto facendo un sacco di video annunci in questo periodo ma ci sono tante cose che vi devo annunciare che meritano un video dedicato, prometto che recupero davvero e quindi, allora questo è un video annuncio appunto e vi devo annunciare che questo weekend sarò a Milano e a Padova per incontrarvi tutte con il tour di Assieme a Roventa, insomma già lo sapete quindi le prossime due tappe sono Milano e Padova voglio ringraziare ancora tutte le ragazze che sono venute a Roma e a Napoli, è stato pazzesco veramente quindi insomma grazie grazie di cuore e non vedo l'ora di incontrare anche voi milanesi e padovane, saremo appunto questo weekend quindi sabato 21 novembre sarò a Milano al Media Award di Viale Certosa 29 dalle 16 in poi, potete venire quando volete e poi invece il giorno dopo domenica 22 novembre sarò a Padova al Comet di via Sergio Fraccalanza 9 sempre dalle 16 in poi ragazze non vedrò di incontrarvi tutte, vi devo dare solo qualche informazione per gli incontri naturalmente chiunque vuole può venire, è gratis l'entrata, me lo chiedete sempre quindi ci tengo a sottolinearlo è gratis, non dovete pagare nulla per venire a vedermi, ci mancherebbe altro se volete vedermi dal vivo perché siete curiosi potete venire, se volete venire e magari farmi qualche domanda potete fare anche quello ma potete anche solo venire per guardarmi insomma dal vivo oppure appunto possiamo scambiarci quattro chiacchiere, posso abbracciarvi finalmente appunto dal vivo perché vi vedo sempre, insomma vi vedo, vi vedo scrivere nei commenti eccetera ma non vi vedo quindi insomma per me è un'occasione splendida e poi appunto possiamo farci foto, selfie, qualsiasi cosa vogliate posso fotografarvi il libro perché in tante mi chiedono se porto il libro, me lo fotografi, certo ci mancherebbe altro tutto quello che volete e poi alcune informazioni che mi hanno dato da Roventa allora se acquistate, chiunque acquisti un prodotto Roventa Beauty o Roventa Forelite avrà in regalo una Polaroid con la mia dedica e poi una palette di ombretti Debbie ma appunto poi chiunque vuole farsi un selfie con me, magari con il proprio cellulare potrà farselo insomma e altre e questo è quanto insomma che sostanzialmente io vi aspetto, vi ridò ancora tutte le informazioni sabato 21 novembre a Milano al Media World di Viale Certosa 29 dalle 16 in poi e poi il giorno dopo domenica 22 novembre a Padova al Comet di via Sergio Fraccalanza 9 sempre dalle 16 in poi, io vi aspetto appunto ragazze, non vedo l'ora di vedervi e abbracciarvi insomma veramente per me è un'emozione unica e poi altra cosa che vi voglio ricordare riguardo il contest perché lo ricordiamo anche agli eventi durante le tappe eccetera eccetera ma ci tenevo a ricordarvelo perché in molte mi chiedete informazioni sul concorso eccetera quindi volevo ricordare che se volete vincere, insomma se volete passare una giornata intera con me praticamente a fare shopping, a chiacchierare, a scambiarci consigli eccetera eccetera potete partecipare al concorso Roventa Beauty, vi basta caricare un selfie sul vostro cellulare su Instagram un selfie dove tenete in mano comunque in cui si veda anche un prodotto Roventa Beauty o Roventa for Elite e poi appunto vi basta caricare questo selfie su Instagram con gli hashtag dedicati che vi scriverò qua sotto nel box informazioni se avete visto il video dedicato insomma già lo sapete poi taggate mi raccomando sempre su Instagram anche la pagina Roventa Beauty Italia e poi uno di voi potrà appunto vincere insomma e passare una giornata intera con me quindi spero che vi piaccia questo concorso, spero che verrete a trovarmi a Milano e Padova perché non vedo l'ora di incontrarvi e niente, bacio gigantissimo, mi raccomando scrivetemi nei commenti se venite a Milano oppure a Padova o in entrambe le tappe insomma scrivetemelo e a prestissimo ciao